Erogatore per tannica di metallo zincato, adattabile a tutti i tipi di tannica, guarnizione interna in silicone nero, sgancio pratico e semplice utilizzo, parte interiore snorata. Andiamo alla tannica, si infila in questa maniera, si preme affinché non ha la massima chiusura, prego qui, notare la chiusura, l'aggancio, ha un fuoro passante per agganciarlo con una catenella adattata la tannica, che non è incluso, poi andiamo ad inserire la tannica e rovesciare il contenuto, come possiamo notare anche nei più moderni tipi di attacco, quelli sprovvisti di tappo esterno. Si inserisce, scatta e poi si rovescia tutto il contenuto all'interno del serbatoio. Di facile estrazione, si rismonta, chiudete la tannica e riponete l'oltre.